Sei soddisfatto? Sì, 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 senza altro soddisfatto per tutti questi risultati e ovviamente è un'emozione straordinaria di essere venivato qui. In casa è sempre più bello? Sì, sì, la emozione si addocchia. E ha avuto due premi? Sì. Un premio come primo vincitore del certamno anno e anche come la prima volta, Lille, certame, hai avuto il primo premio, è vero? Sì, sì, questo premio è istituito appunto il certamina che ho vinto quest'anno. È un bello riconoscimento e spero che negli anni possano ricevermi tanti ragazzi che lo meritino anche più di me. Grazie.